Tragico sconto frontale nella notte lungo la strada regionale 70 della Consuma, un 17enne morto dopo un terribile incidente a Memmennano nel comune di Poppi. Nunzio Gallo, questo il nome della vittima, stava viaggiando sul motorino con un coetaneo quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato con un'auto che arrivava dall'opposta direzione di marcia. L'urto è risultato fatale per il giovanissimo, mentre l'amico è stato portato a Careggi con l'elisoccorso. Nell'auto viaggiavano due ventenni della zona rimasti praticamente illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. Sull'incidente mortale è stato aperto anche un fascicolo da parte del PM della Procura di Arezzo, Chiara Pistolesi. La giovane vittima frequentava l'ITC di Bibbiena, dove viveva la sua morta provocato sconcerto in tutto il Casentino.